Il nostro Paolo Franceschetti ha scelto un grande classico della musica per il titolo, immagino, Romeo and Juliet. Cosa gli possiamo fare per ritrovare, perché l'abbiamo già ritrovato a Massoneria On Air, però in realtà, come dicevo anche all'inizio, questa è un po' la casa dove ci piace riabbracciarlo, dove lo sentiamo più vero, più nostro. Ciao Paolo! Ciao Fabio e ciao a tutti. Allora, che cosa hai in mente? Riprendiamo il cammino dei personaggi che avevi iniziato e che sono stati al centro della scorsa stagione? Sì, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, perché avevamo lasciato con Giordano Bruno e oggi trattiamo un argomento, c'è un personaggio che è William Shakespeare, che è collegato con Giordano Bruno, anche se la maggior parte delle persone non lo sa. Ma c'è un collegamento molto stretto. Perché? Perché nell'opera di Shakespeare ci sono tantissimi riferimenti al pensiero di Giordano Bruno. Ma questo non sarebbe strano, però è strano quando andiamo ad analizzare invece la vita di Shakespeare, questo grande drammaturgo che in circa vent'anni ha scritto una quarantina di opere a lui attribuite, eccezionali, straordinarie per contenuto, per cultura, in cui dimostra una cultura straordinaria, un pensiero filosofico profondissimo, direi di più, un pensiero spirituale, non tanto filosofico. Però appunto ci si domanda come ha fatto a scrivere tutta sta roba e dove ha preso questa cultura. Perché? Perché Shakespeare nasce a Londra, scusa in Inghilterra, non aveva questa cultura, non si sa di Shakespeare quasi nulla della sua vita, non si sa dove avrebbe studiato, non si sa dove avrebbe preso queste conoscenze, di più ci sono invece proprio degli elementi che fanno propendere per proprio una mancata conoscenza di certe cose. Noi sappiamo solo che è nato nel 1564 ed è morto nel 1616 e poi si sa pochissimo. Abbiamo della sua vita qualche acquisto di terreno o di case, abbiamo un testamento, un testamento in cui lui lascia le sue cose, aveva tre figli, uno morì durante la sua vita, rimasero due figli, lasciò quindi in questo testamento alcune cose ai suoi figli e qualcosa a musufrutto di una camera da letto alla moglie. Non si fa un solo cenno a un solo libro, cioè un letterato di quel tipo, che doveva avere una cultura quindi straordinaria, che doveva aver acquisito da qualche parte, non ha un solo libro in casa, non solo, ma i suoi manoscritti originali dove sono? Non sono menzionati, eppure avrebbero avuto un valore inestimabile se fossero state opere sue. Insomma, per farla breve, nel corso dei secoli molte persone hanno dubitato dell'identità di Shakespeare o perlomeno dell'attribuzione a questo personaggio, che sicuramente è esistito perché abbiamo dei documenti della sua esistenza, però nulla che lo riconducano al teatro. E allora tantissimi personaggi, già un secolo dopo la sua morte, cominciarono a dubitare. In più, dubitarono della sua opera e del fatto che fosse effettivamente lui ad aver scritto queste cose, personaggi influenti come ad esempio Mark Twain, uno scrittore che penso che quasi tutti conosceranno, che per giunta non era inglese, era americano, studiò la sua opera e disse ma qui c'è qualcosa che non va, nel senso che non poteva Shakespeare aver acquisito tutta quella cultura e averla trasfusa nelle sue opere. Soprattutto c'è una conoscenza anche dell'Italia, della cultura italiana, della storia, una serie di particolari che presupporrebbero che lui avesse conosciuto realmente l'Italia, proprio ho scelto la canzone, il brano Romeo e Juliet di Dare Straits, perché è una delle opere di Shakespeare dove dimostra di conoscere la città di Verona e dove ha preso queste conoscenze. Effettivamente, quindi approfondendo un po' di più, negli anni diversi autori si sono occupati della figura di Shakespeare e hanno concluso che le sue opere sono da attribuire ad altri. Ora, questi altri sono stati individuati in diversi personaggi nel corso dei secoli. Qualcuno ha attribuito le sue opere a Francis Bacon, a Bacone, che era comunque un rosa croce. Altri l'hanno attribuito a un libro abbastanza recente, edito da Mondadori, di Roberta Romani e Irene Bellini, che si intitola Il segreto di Shakespeare, sottotitolo Chi ha scritto i suoi capolavori? Qui le sue opere vengono attribuite a un certo John Florio e al padre Michelangelo Florio, che era un italiano e che, guarda caso, aveva dei contatti con Giordano Bruno, anzi non erano dei contatti, erano proprio una comunanza di interessi, di pensiero, tant'è che sia Bruno scrive delle opere che richiamano Florio, in modo chiaro, e sia viceversa. Ecco, qui c'è, diciamo, questo studio che ho fatto su Shakespeare è partito proprio da una osservazione di Carpeoro, che un giorno disse, guarda caso, dopo che Giordano Bruno andò a Londra, successe che le opere di Shakespeare prendono la via italiana e quindi sono ambientate molti di essi in Italia. Questa cosa mi ha fatto riflettere non poco e quindi ho approfondito, ho studiato appunto questa parte. Per chi fosse interessato c'è anche un romanzo, non particolarmente bello in realtà, ma comunque di John Underwood, che si intitola Il libro segreto di Shakespeare ed è edito da Newton Compton, eccolo qua. Anche questo tratta la teoria della paternità delle opere di Shakespeare sotto forma romanzata, però tutto ciò che mette è frutto di realtà, cioè diciamo i particolari che fornisce sulla vita di Shakespeare e sulle sue opere sono effettivamente reali e in questo libro invece si attribuisce la paternità delle opere di Shakespeare a un certo Christopher Marlowe, che era un drammaturgo, un letterato, che è vissuto più o meno nello stesso periodo di Shakespeare, che morì un po' prima di lui, venne ammazzato all'età di 30 anni, ma pare che in realtà non fosse stato ucciso, ma continuò a lavorare per i servizi segreti della corona, in particolare per il capo dei servizi segreti della regina Elisabetta I, che all'epoca era la regina d'Inghilterra, che era John Walsingham, che era il capo appunto dei servizi segreti inglesi, al servizio della corona. E beh, insomma c'è tutto un intrigo che è affascinante comunque da scoprire leggendo questi libri e leggendone altri, insomma alla fine che cosa viene fuori? Che sì, secondo me è così, nel senso che l'opera di Shakespeare non è sicuramente sua. Io credo che, questo diciamo a mio parere personale, non ci sia un solo autore che fosse il vero autore delle opere di Shakespeare, molto probabilmente come appunto aveva detto Carpeoro in qualche parecchio tempo fa, adesso non mi ricordo in che puntata, insomma, la compagnia di Shakespeare era in realtà la compagnia di Rosa Croce, quindi Shakespeare era il prestanome di qualcosa di più grande di lui e probabilmente quindi alla sua opera contribuirono diversi personaggi, alcuni italiani, alcuni inglesi ed ecco perché chi analizza per esempio l'opera di Shakespeare in chiave baconiana ci trova dei riferimenti chiari, convincenti. Chi analizza l'opera di Shakespeare nella chiave di Florio comunque è effettivamente convincente, non c'è niente da fare, sono i riferimenti, le circostanze, le concordanze tra l'opera di Florio e l'opera di Shakespeare sono assolutamente convincenti. Però anche Christopher Marlow era un autore che ha scritto una serie di cose che poi ritornano nell'opera di Shakespeare e allora sono un po' troppi riferimenti certi che tornano in questo autore e probabilmente quindi c'erano più autori. Ha ragione quindi Carpeoro che la compagnia di Shakespeare era la compagnia dei Rosa Croce. Tra l'altro quando fu costruito poi il teatro, questa è una particolarità della vita di Shakespeare, fu costruito questo teatro il Globe che era finanziato da personaggi che stavano vicino alla corona inglese che erano ricchi, nobili, anche spiritualmente molto elevati. Ed erano Rosa Croce, questi sono Robert Flood, ad esempio Pacone eccetera, che centrava Shakespeare che era un personaggio non umile ma comunque non certamente di quel tenore che diventa proprietario del Globe. Effettivamente non c'entrerebbe niente. Il Globe poi è strutturato e costruito con una serie di riferimenti chiaramente ispirati all'opera di Giordano Bruno. Allora questo è un indizio non da poco insomma per capire come quindi non è né Giordano Bruno né Bacone, non c'è un personaggio che ispira Shakespeare ma è diciamo nelle opere di Shakespeare c'è il sapere dei Rosa Croce, c'è il loro pensiero, infatti alcuni dei suoi lavori sono opere di una spiritualità altissima, ovviamente un po' celato, un po' come si faceva all'epoca, quindi un po' mascherato sotto il velo di questi drammi che Shakespeare scriveva. Ecco la cosa curiosa, una delle prove provate di questo che diciamo però è appunto il fatto che non c'è una sola traccia nella vita di Shakespeare del fatto che lui avesse contatti con dei letterati, non solo una lettera, qualcosa scritta a qualcuno o scritta da qualcuno in cui si parla di qualcosa delle sue opere nulla, la sua vita, diciamo le tracce che abbiamo della sua vita sono solo acquisti di beni immobili o mobili e poi questo testamento in cui non c'è un solo cenno alla sua opera, è una cosa impossibile se fosse vero che Shakespeare ha scritto tutta questa roba. Peraltro dopo la morte di Shakespeare non c'è neanche nel 1616, muore ad aprile, non c'è a Londra quello che ci dovrebbe essere per la morte di un grande personaggio, quindi ci dovrebbero essere funerali eclatanti, personaggi famosi che piangono la sua morte, descrivono il rapporto che hanno avuto con lui, niente di niente in tutto questo, quindi una totale assenza di elogi funebri o di condoglianze per la sua morte. Tutto questo quindi ci fa capire che Shakespeare, un po' come Dante Alighieri, come tante altre opere che noi conosciamo, in realtà cela qualcos'altro e ovviamente questa cosa agli inglesi non fa piacere perché Shakespeare è considerato il più grande drammaturgo di tutti i tempi e anche il personaggio che più ha dato lustro all'Inghilterra, quindi effettivamente loro non hanno nessun interesse a portare avanti questo tipo di ricerca. La cosa curiosa è invece che mi sono andato a leggere alcune critiche all'opera di Shakespeare, di letterati, di critici famosi che dicono no no, l'opera di Shakespeare è proprio sua, sì va bene, quali sono le prove? Nessuna, nessuno che riesce a portare un valido argomento a favore dell'attribuibilità, della paternità delle opere di Shakespeare a questo nome, al contrario invece ci sono tantissimi autori, anche famosi e importanti come Twain, che invece smontano proprio la possibilità che queste opere fossero sue, insomma. Addirittura tra i nomi che parleranno di Shakespeare abbiamo Oscar Wilde, Charlie Chaplin, Thomas Mann, Freud, Jung, tutti a dubitare della paternità delle opere di Shakespeare e nonostante questi nomi che ho citato, che insomma non sono nomi proprio secondari, la critica ufficiale, la letteratura ufficiale non fa minimamente menzione di queste cose. Allora, poi, che altro dire? Questo è il succo, io penso che in realtà ho finito qua, guarda, diciamo questo mio intervento è volto solo a dare uno spunto, come tutti gli altri che abbiamo fatto sugli altri personaggi, per invitare a rileggere alcuni personaggi storici in un'altra chiave, completamente differente e anche quindi le opere di Shakespeare dovrebbero essere rilette in un altro modo, cioè dovrebbero essere rilette come un'opera che mette in scena in realtà il sapere e il pensiero dei Rosa Croce. Vedevo nei commenti della precedente puntata, quella che abbiamo fatto l'ultima stagionale, in cui avevi annunciato che avresti parlato di Shakespeare, che ti chiedevano del Mercante di Venezia. Sì, il Mercante di Venezia è una delle opere ambientate a Venezia, che anche lì dimostra la conoscenza di usi e costumi veneziani, dimostra la conoscenza anche della città di Venezia e non si capisce dove lui abbia potuto prendere queste informazioni. Teniamo conto che a quell'epoca già le informazioni circolavano poco, poi non c'erano dei libri, oggi abbiamo le guide della Mondadori, della Lonely Planet, in cui uno comunque volendo può immaginarsi di vivere in una determinata città. Invece all'epoca no, tra l'altro in Inghilterra c'erano proprio pochissime opere italiane tradotte, quindi la cultura italiana non poteva essere studiata da uno che, precisiamo anche questo, conosceva solo la lingua inglese. Non pare, non c'è traccia del fatto che conoscesse altre lingue, mentre invece l'opera di Shakespeare dimostra la conoscenza non solo di lingue straniere, antiche e moderne, moderne per l'epoca chiaramente, in più una cultura straordinaria che spazia in tutti gli ambiti del sapere. pensiamo che esistono solo cinque firme autografe sue, tutte prodotte dopo il 1610 su atti giudiziari relativi a compravendieri immobili, non abbiamo una sua firma autografa su panoscritto, su un'opera, su qualcosa così. Nelle sue opere tratta tutta la storia dell'Occidente, compreso una parte dell'istoria che era sconosciuta in Inghilterra e le ripropone sulle scene in modo magistrale, cioè obiettivamente sono opere che sono un capolavoro, questo sicuramente si può dire, e dimostra la conoscenza di Dante, di Boccaccio, di Ariosto, di Tasso, di Machiavelli e dove l'ha studiati, perché molte di queste opere non erano tradotte in inglese, quindi non era possibile, quindi questo è un prestanome per quello che era il pensiero rosacrociano e dietro alla compagnia di Shakespeare si celavano in rosacroce. Quando Giordano Bruno andò in Inghilterra andò per tessere questi rapporti con quelli che erano dei suoi affini, Giordano Bruno era un rosacroce anche se non aveva, all'epoca non c'era quel nome, nel senso non veniva usato in questo modo il nome del rosacroce. Si chiamavano Giordaniti o Giordanisti, i seguaci di Giordano Bruno e tra questi figurano alcuni dei personaggi che stanno all'interno della compagnia di Shakespeare. Quali ulteriori osservazioni si possono fare sul fatto che fosse un prestanome, che risvolti si aprono, risvolti che fanno capire la grandezza di Rosacroce, il fatto che non volessero manifestarsi in modo plateale, che spiegazioni si può dare? I rosacroce sono stati per secoli la fratellanza che ha guidato un po' i destini dell'umanità, non l'ha guidata, diciamo che ha cercato di influenzarne le sorti, tuttora continua a cercare di influenzarne le sorti e non si potevano palesare perché altrimenti sarebbero stati distrutti dal potere costituito. Elisabetta I fu una sovrana considerata grandissima, nell'epoca in cui governò lei l'Inghilterra godette del numero di anni di pace maggiore di cui l'Inghilterra era goduta in tutta la sua storia, è riuscita a fare tante cose, come tutti i sovrani ha comunque luci ed ombre ma probabilmente era una che proteggeva i Rosacroce. Tra l'altro la regina d'Inghilterra dà un forte impulso, una forte spinta alla crescita della chiesa anglicana che non è stata fondata da lei in realtà, però lei dà un impulso molto forte per un motivo che era altamente spirituale, visto che c'erano lotte ferocissime tra cattolici e protestanti, lei nonostante comunque fece anche lei un bagno di sangue tra cattolici e protestanti perché alcuni non accettavano questa cosa, comunque la sua intenzione, poi che fosse il modo corretto o no di procedere quello lo decide la storia, forse la sua opera non è in questo senso del tutto positiva, comunque forse non poteva fare altro, ma che cosa vuole fare? Vuole cercare di impedire le lotte tra protestanti e cattolici e vuole cercare di mettere un freno a questo fenomeno che era effettivamente una lotta fratricida perché comunque i cattolici e protestanti avevano lo stesso credo e si facevano delle guerre che hanno fatto un bagno di sangue spaventoso in nome di Dio, una cosa veramente assurda, va detto che lei fece la stessa cosa comunque perché potenziando la chiesa anglicana comunque anche lei è costretta poi a decapitare delle persone, a ucciderne altre, a buttarle fuori dall'Inghilterra per altri motivi. Quindi i Rosa Croce per me sono la chiave per capire la storia dell'umanità in modo più approfondito, ecco perché abbiamo fatto personaggi come Dante che comunque era un precursore di Rosa Croce con i fedeli d'amore e Rosa Croce continua esserci anche oggi, continuano a operare, operano nel silenzio, operano in modi, sono un po' fuori diciamo dai percorsi ufficiali però ci sono, gli Ogananda era un Rosa Croce insomma ad esempio e ce ne sono tanti altri. Leggiamo anche qualche commento dalla precedente puntata appunto dove ti chiedevano del mercante di Venezia e a qualcuno era piaciuto anche la tua citazione shakespeariana sul fatto che ognuno nella sua vita ha una parte da recitare. Poi Giordano Bruno, tornando quindi a Giordano Bruno, sapeva benissimo quale sarebbe stata la sua sorte, se avesse voluto salvarsi avrebbe ripudiato le sue teorie come gli fu proposto dalla chiesa, cosa che fece tra l'altro Galileo, quindi c'era consapevolezza in lui. Io penso di sì perché molti di questi personaggi che hanno una spiritualità molto elevata, quindi sono ad un livello un po' sopra l'essere umano ordinario, quindi pensiamo appunto a personaggi come Yogananda, come Buddha, come Cristo e tanti altri, sanno già qual è il destino a cui vanno incontro, sanno anche quando devono morire, quindi talvolta si consegnano al carnefice volontariamente. Sfuggono alla morte diverse volte nel corso della loro vita, questo capita per esempio nella vita di Buddha, capita nella vita di Yogananda che sfugge a diversi attacchi da varie parti e poi a un certo punto però arriva il loro momento, loro lo sanno e non si sottraggono e tanto capiscono perfettamente che quando è il tuo momento non puoi fare niente, insomma. E quindi si consegnano volontariamente. Bene, poi l'Amleto, dice Matteo, è il racconto di un'iniziazione meglio congegnato per l'uomo moderno. Lo spirito del padre è sempre presente, mentre Amleto impara a credere in lui, cioè a credere nel mondo dello spirito. Amleto è un uomo moderno, questo non va dimenticato, il primo di un'epoca nuova, quella che segue dopo l'epoca di Dante, ontologicamente attuale. Per questo è attualmente l'archetipo meglio definito in parole, per la nostra possibile comprensione delle sue esperienze spirituali. Anticipa e supera ogni mera psicologia con grande agilità, portandosi nello spirituale diretto. Il fantasma parla durante la storia e con il solo Amleto per sua decisione. Amleto che fa, si finge pazzo per meglio osservare e lì comincia la vera grande festa dei versi di Shakespeare. Ti piace? Mi piace, sì. Poi c'è Marinella, dice grazie Paolo, sei una bellissima persona, oltre che un grande ricercatore nella scienza dello spirito. La cara Marinella, ci sono dei nomi, lo dico spesso, che ormai li abbiamo memorizzati, che ti seguono, ci seguono da anni. Bellissimo ciclo, aspetto con gioia alla prossima edizione. Eccola qua, è arrivata. Tiziana, condivido la scelta di ampliare il discorso al mondo artistico da lì Caravaggio Picasso. Lei suggerisce anche Picasso. Un abbraccio al caro avvocato Franceschetti. Va bene, buone vacanze, quelle ormai sono andate. E poi, ho indovinato, avrebbe detto Yogananda è il suo preferito, ho vinto un libro. Se la ride, no, non hai vinto niente per il momento, però vedremo cosa si può fare. Picasso potrebbe rientrare nella tua serie? Guarda, adesso io ci devo pensare a quali personaggi faremo. Alcuni già lo so. Per esempio, la prossima volta faremo la papessa Giovanna, che è un altro personaggio che a me mi affascina, che non c'entra niente con il Rosa Croce, però. Però è un personaggio storico, affascinante da vari punti di vista e poi vedremo perché. Poi farò Aurobindo, farò Steiner, farò diversi personaggi, però ho quelli che mi sento più affini. Poi non è che mi posso occupare di tutti, perché alcuni mi fa piacere studiarli lì per lì. Se trovo una chiave interessante per il lettore o uno spunto interessante, altrimenti... No, quindi Picasso francamente non saprei che dire. Poi magari mi affascina, me lo studio e magari posso dare degli spunti anche a chi ascolta. Però per adesso, per esempio, non mi dice molto. Chiaga, dice Giordano Bruno, è stato messo a rogo dalla Chiesa. Un personaggio così sarebbe stato messo a rogo anche dalla religione islamica e da quella ebraica. Ma tutti gli eretici sono stati sempre messi a rogo dalle varie religioni d'appartenenza. Anche se l'Islam fino al 1800 ha molti meno roghi di quello che succede invece in Occidente con la religione cattolica. Cioè fino al 1800 per esempio l'Islam ha solo due eretici messi a rogo che poi non vengono neanche messi a rogo per eresia, semplicemente perché erano proprio contro il potere. Uno è Al-Alai, ad esempio, è un mistico straordinario che però dava fastidio al potere per una serie di motivi e quindi lo crocifiggono tra l'altro proprio come avvenne per Cristo. Poi è dall'800 in poi che è partita l'intolleranza e il fondamentalismo musulmano in modo feroce e quindi poi hanno fatto una sorta di compensazione. Le uniche religioni che non hanno mai messo a rogo nessuno sono l'induismo e il buddismo, ma per una serie di ragioni culturali eccetera. Però la maggior parte i roghi purtroppo li hanno sempre fatti insomma. Giordano Bruno aveva consapevolezze della verità suprema delle cose da cui tutte le regioni accentrative del potere e della delega spirituale si sono allontanate tragicamente per l'uomo e per la natura. Tra l'altro hai citato l'eretico stasera, hai detto era un eretico come tutti gli eretici. Ti chiedo se oggi per fare così un parallelo con l'attualità si può fare un parallelo con le dovute chiaramente differenze. Siccome abbiamo avuto l'eretico come primo ospite questa sera, l'ex magistrato Giorgianni che fa parte dell'associazione l'eretico, l'ha fondata. Ecco chi oggi va contro la narrativa ufficiale sull'esempio sul Covid e su tutto quello che stiamo vedendo. Può essere considerato un eretico un po' come lo era Giordano Bruno? Eh beh sì, di eretici ce ne sono molti, o molti di più di un tempo e alcuni infatti pagano delle conseguenze anche abbastanza pesanti. Basti pensare che nel mondo dello spettacolo chiunque si oppone a una certa visione normalmente viene buttato fuori, a meno che non abbia raggiunto un notevole potere ormai consolidato, allora riesce a mandare con le sue opere dei messaggi magari più forti di altri, però chiunque prova a uscire dal seminato viene completamente bruciato. Basti pensare anche ai personaggi che abbiamo intervistato, Border Knights, non so, no, Faretti, scusa, quello che si occupa di Apache, che si occupa di nativi americani ed era un personaggio del drive-in, era un personaggio noto, un comico noto, come si chiama. Sai che è conosciutissimo, l'abbiamo avuto ospite, però anch'io ho un, in questo momento, una defiance, io con i nomi comincio ad avere dei problemi, caro Paolo. Non lo sapete che sia molto noto, eh, dimmi. Sì, poi in realtà uno se lo ricordo, magari me lo ricordo fra cinque minuti, insomma dieci minuti, adesso perché mi è venuto in mente così e mi sfugge, mi è venuto in mente appunto Faletti, ma non è Faletti che è morto, tra l'altro. Perché anche lui faceva il drive-in, sì, l'assonanza è per quella. Aspetta, come si chiama? Vabbè, non mi ricordo, comunque forse qualcuno che ci segue avrà capito. Certo, Enzo Braschi, Enzo Braschi, Enzo Braschi. Perfetto. Lui si occupa, ha cominciato ad occuparsi di spiritualità, boom, fuori dal mainstream. La stessa cosa a Bragadin, che adesso è morto da poco, ha cominciato a occuparsi di temi spirituali fuori dalla TV, è così. Quindi questo vale per tutti. Poi ci sono alcuni che sono riusciti a, diciamo così, a barcaminarsi, però io penso anche a Pippo Franco, che c'era un periodo che stava molto in TV e ultimamente, non proprio di recente, ma parecchi anni fa ha cominciato a pubblicare libri spirituali. Ha scritto un libro sulla reincarnazione, ad esempio, e niente, lo vedi più? No. Anche 80 anni adesso. Sì, però ha 80 anni, ma sono 20 anni che non lo si vede più, forse sì, più o meno. Quindi, secondo me, perché anche lì l'hanno cercato di spingerlo fuori, ma poi pensiamo a tutti i personaggi della musica, non so, a Michael Jackson, che era comunque, ha fatto molte lotte importanti, l'hanno distrutto, massacrato dal punto di vista mediatico, con la storia della pedofilia, con tutta una serie di altre cose. E poi ce ne sono tanti altri, insomma. Fabio, invece, pone un discorso di fonti. Dice, quando si parla di certi personaggi storici, si attinge inevitabilmente ai sentito dire, ai documenti di varia origine, a fonti depositate come verbali o in archivi più o meno accessibili e targati chiesa o massoneria. Quindi una certa percentuale di inaffidabilità è comunque presente e deve superare un vaglio critico di esperti indipendenti e intuitivamente e dottrinalmente efficaci. Direi che le nubi intorno al Moro o a Bruno vadano digadate e continuamente scremate incessantemente. Se no, capita, come ha il Cristo narrato alle pubblicazioni sui lati oscuri, che in ogni grande persona alberga necessariamente in sé. Se no, si parla di uomini estranei all'umanità, capitati quasi per caso qui, un po' come Leonardo da Vinci e compagnia bella. Quindi anche questo tema deve restare un tassello il meno possibile sviante o agiografico. Sì, non ho capito, quindi sì, bisogna approfondire, ma non ho capito se dice qualcosa di diverso da quello che diciamo noi o no. No, penso che pone il dubbio, nel senso che quello che abbiamo, di cui magari ti avevo chiesto anche io in passato, nel senso che l'analisi uno la fa su dei testi sui quali comunque non abbiamo certezze sulla loro validità e aderenza a quello che è stato veramente. In realtà non è proprio così, perché se uno conosce i Rosa Croce e ne conosce il pensiero in generale, ne conosce la filosofia, dopodiché ritrova le stesse cose in Shakespeare piuttosto che in Giordano Bruno, quindi al di là di quello che ci raccontano le fonti su, che ne so, Giordano Bruno che in quell'anno è andato a Londra, ha fatto questo e quest'altro, su questo ci possono essere delle cose omesse soprattutto, oppure addirittura delle notizie false. Su quello che però è il contenuto delle opere di Giordano Bruno, no. Quindi se uno legge Giordano Bruno e ne vede il contenuto, trova chiarissimo qual era la posizione di Giordano Bruno. Quando poi uno vede i personaggi che Giordano Bruno frequentava e che pensiero hanno, il collegamento è proprio evidente. Certo, bisogna partire dalla conoscenza dei Rosa Croce, perché se uno non parte da lì, chiaramente qualunque cosa diventa una congettura. Quando uno però conosce come si muovono i Rosa Croce, chi sono e cosa fanno, a quel punto molto, molte cose diventano più chiare. Un po' come la Divina Commedia, no? Molti dicono, vabbè, ma che prove hai che fosse un templare? A parte una moneta che sta in un museo, adesso non ricordo quale, in cui c'è Dante con il grado di Cavaliere Kadosh, c'è proprio scritto chiaramente, era quindi una moneta che apparteneva a lui. Ma potrebbe essere pure falsa questa moneta, quindi non ci interessa poi questo particolare. Ma l'opera di Dante è chiara. Quando uno conosce i Templari, sa che San Bernardo fu uno dei creatori, dei fondatori dei Templari e legge che San Bernardo è colui che porta in paradiso Dante, insomma è abbastanza chiaro. Poi c'è tutta la simbologia, la candida rosa dei beati, c'è tutta la simbologia rosa crociana e Templare. Quindi se uno parte da questo, la Divina Commedia diventa un'opera chiara. Certo, se uno parte a studiare il documento storico singolo che dice una certa cosa, il documento storico può essere anche falso, alla fine può dire e non dire, insomma. Però se uno parte dal contenuto effettivo, lì non ci sono dubbi. Infine leggiamo questa di Alfonso Quatrimegisto. Non sarebbe molto meglio prendere come simbolo di libero pensiero Tommaso Moro, perché nessuno ne parla, eppure Tommaso Moro è il più grande esempio di libero pensiero che non si piega fino al sacrificio e dovrebbe essere molto più celebrato, tanto più da professionisti del diritto come Paolo Franceschetti, essendo stato grande giurista e giudice Tommaso Moro, che non si è piegato neppure davanti al martirio. Piuttosto Giordano Bruno sputava sugli inquisitori che cercavano fino all'ultimo di salvarlo, li offendeva, bestemmiava, dichiarava di voler uccidere il Papa e di lanciargli magie, pagava le donne per averci rapporti sessuali senza volersi togliere l'abito monastico. Non fu un bel esempio. Vabbè, cioè non è che nessuno si occupa di Tommaso Moro, il fatto che non me ne occupo io non significa che non se ne occupa nessuno, se ne sono occupati tanti e non è che uno si può occupare di tutti, insomma, mi sembra chiaro. Poi non possiamo, alla ripresa della nostra stagione, non dare un piccolo spazio al nostro amico, lo sai chi è? No, chi? John, John 80, John 80 che dice Quanti Giordano Bruno vengono messi a rogo quotidianamente oggi nel 2020 da paesi liberticidi islamici? Peccato si eviti accuratamente di parlarne. Ancora una volta, ma chi evita di parlarne? Anzitutto chi sono questi Giordano Bruno di cui parla lui? In realtà ce ne sono tanti, ci sono dei giornalisti scandinavi, norvegesi, francesi, morti perché si sono occupati di determinate cose, c'è una giornalista a Malta che hanno fatto saltare due anni fa, adesso non mi ricordo i nomi, ce ne sono tantissimi di personaggi di questo tipo, qualcuno se ne occupa, però non è che tutti ci dobbiamo occupare di tutto, perché è impossibile, insomma, quindi c'è queste cose generiche così. Ma perché il retro pensiero qual è? Il suo retro pensiero è che tu, diciamo, da anche altri interventi che ha fatto lui, è che tu insomma simpatizzi un po' per l'islam e quindi edulcoli la realtà islamista nella sua forma, più questo credo sia il pensiero suo. Eh, vabbè, è il pensiero suo appunto. Allora, questo era il nostro primo incontro, quindi la prossima settimana parli della papessa? Credo che parlerò della papessa Giovanna, sì. E nei tarocchi la papessa che cosa simboleggia? Guarda, nei tarocchi in realtà più che la papessa Giovanna, che è un'altra cosa, simboleggia la sacerdotessa. Ci sono, nei tarocchi, quelli di Marsiglia, c'è un identico numero di figure maschili quante femminili in tutto il mazzo dei tarocchi. E c'è sempre un corrispondente maschile e uno femminile. Quindi abbiamo il papa e la papessa, l'imperatore e l'imperatrice. La papessa è semplicemente la sacerdotessa, fenomeno a cui noi non siamo abituati da duemila anni, perché la Chiesa Cattolica ha visto il sacerdozzo solo dell'uomo, abbiamo una cultura patriarcale, che è tuttora così, anche se sta adesso cambiando, insomma, molte cose si stanno, per fortuna, affievolendo, insomma. Però abbiamo avuto per secoli una cultura maschilista e patriarcale, quindi la sacerdotessa non era ammessa. In altri contesti culturali c'era, era a pari del sacerdote, era addirittura superiore al sacerdote per una questione proprio energetica, di energia della donna rispetto all'energia dell'uomo, di come funzionano le due energie, ma vabbè, questo è un discorso più ampio, insomma. E poi comunque noi abbiamo avuto una cultura maschilista e patriarcale prevalentemente nella zona italiana, tedesca, eccetera. Però in Francia, ad esempio, non è così, perché in Francia, infatti approda in Francia la Maddalena con Santa Sara, non a caso gli zingari hanno una cultura invece matriarcale. E in Francia hanno anche una cultura, infatti, sessuale un po' diversa dalla nostra, perché hanno avuto secoli in cui la cultura non era così maschilista, il cristianesimo è stato portato da Maria Maddalena. Quindi chiaramente non potevano essere maschilisti come noi, insomma. Allora, Cacopalo, ci risentiamo la prossima settimana con la papessa. Grazie Paolo e buonanotte. Ciao Fabio, ciao a tutti.